La chiusura della Trignina per i lavori di manutenzione alla Galleria Serre è stata scongiurata. La provincia di Serne ha avanzato una proposta ad Anas per disciplinare il traffico viario con semafori e senso unico alternato. Un piano per evitare il transito del traffico veicolare su Carpinone, dunque. Resta però da risolvere il rebus degli impianti semaforici. Secondo una simulazione di Anas, la sosta ai semafori potrebbe durare più di 20 minuti. E' questo in sostanza quanto richiesto dalla politica durante l'incontro che si è tenuto a Via Berta, al quale hanno partecipato i consiglieri provinciali, i sindaci dei comuni interessati dai possibili disagi e i tecnici della società che si occupa delle infrastrutture stradali. La chiusura di un tratto della Fondovalle del Trigno in provincia di Serne fino a febbraio ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche. Dopo lo sfogo del primo cittadino di Sessano del Molise, Pino Venditti, ad alzare la voce è stato il comune di Carpinone. Intanto Anas, fanno sapere da Via Berta, sta preparando la nuova ordinanza elaborata su proposta della provincia di Serne, l'avvio dei lavori e l'installazione dei semafori per la nuova viabilità ci saranno nei prossimi giorni.